un ben sintonizzati con agrisapori la rubrica di agricoltura e enogastronomia che da tanti anni è presente sui vostri teleschermi e noi speriamo che vi sia stata anche utile per le vostre tavole oggi iniziamo l'appuntamento proprio parlando di cibo cibo e arte assaggia l'arte è un evento in scena a bologna presso la fabbrica mortadella bologna igp a fico tre celebri tele di caravaggio e leonardo da vinci sono al centro dell'aperitivo scenografico organizzato in collaborazione con sartoria dei sapori dal consorzio mortadella bologna igp è un evento molto importante per noi ci è piaciuto da subito unire l'arte alla all'alimentazione e con questo evento sicuramente la mortadella viene rivisitata quindi in modi particolari non ce l'abbiamo più nel classico panino ma si può addirittura mangiare da dei quadri bellissimi che sartoria dei sapori ha creato per noi è bellissimo vedere anche il nostro pubblico i nostri clienti che si avvicinano a questi quadri sorpresi e sono felici di mangiare la mortadella anche in una maniera un po insolita ad aprile abbiamo come sempre un palissesto ricchissimo di eventi il 20 abbiamo un evento molto molto carino che è alex fantini con il mortadella saguar alex fantini è un bartender di bologna che ha inventato un cocktail al sapore di mortadella dopodiché il 25 aprile quindi giornata di festa abbiamo il de mortadella bologna show con l'associazione dei blogger allo italian food sarà un vero e proprio show terminiamo il mese il 27 con il campione di pizza di lella gianni di lella che ci preparerà due pizze speciali con la mortadella e la pizza con la mortadella ci sta sempre bene assaggiare direttamente dai famosissimi dipinti di leonardo da vinci e del caravaggio può essere davvero un interessante e originale tendenza per una galleria artistica gastronomica giusto la tendenza dell'assaggiare l'arte l'abbiamo cercata voluta e proviene da una mia ricerca negli anni in cui ho lavorato nel campo della moda e quindi avendo delle competenze di un certo tipo sono arrivata a fare questo altro tipo di lavoro che è un catering scenografico ad oggi unico in italia perché ho capito che la gente ha voglia di divertirsi e di riconoscere un'italianità che non è solo cibo ma è tutto quindi l'arte in modo particolare perché mi piace tantissimo cerchiamo di dare al cibo il proprio contenitore cioè il cibo è contenitore di se stesso ad esempio un salame su un davanzale non lo possiamo mettere ma se il salame lo facciamo diventare un fiore su davanzale lo possiamo mettere quindi che sapore all'arte assaggio è un nostro claim diciamo continuiamo con la parte dedicata ai sapori del nostro programma e prosegue dunque il nostro viaggio parlando di formazione del personale specializzato nella ristorazione siamo tornati all'istituto colombatto di torino dove prosegue un'attività coordinata da conf imprese nord ovest dove si cerca di unire studenti e imprese nel comune interesse di operare nel mercato cinese dottor Gelli altro momento importante con nuovi piatti e nuovi produttori di eccellenze italiane altri produttori alla presenza sempre degli allievi dell'istituto colombatto e al contempo con la presenza dei somministratori quindi degli istitutori italiani che sono prossimi alla venuta in Cina abbiamo incontrato i ragazzi che oggi hanno preparato questi piatti proprio in funzione di quelli che possono essere i gusti cinesi un'opportunità di mercato che si aprirà loro proprio nel momento in cui fra pochi anni si affacceranno sul mondo del lavoro beh si sta maturando sempre più l'idea che il mercato è un mercato internazionale e non più nazionale quindi oggi abbiamo avuto già diversi allievi che si sono candidati di buon grado a venire su in Cina ad essere dei veri operatori del mondo del food e del beverage questo che abbiamo fatto in queste due giornate è l'inizio di un progetto duraturo a tutti gli effetti perché darà corso sempre più al legame tra quello che è il mondo della scuola quindi il mondo culturale e il mondo aziendale con questo sistema aumenta sempre di più la possibilità e le probabilità di successo sia dei nostri prodotti in un mercato come la Cina e sia per quanto riguarda i nostri ristoratori in un mercato sempre come la Cina Dottor Gelli parte da Torino questo progetto ma che si amplierà ben oltre vuole parlarcene? beh sì questo è un progetto che abbiamo iniziato a Torino per un motivo logistico ma andrà su tutti i territori nazionali con la collaborazione logicamente dei vari alberghieri che troveremo un po' sparsi in tutta la nostra penisola diamo voce a chi oggi ha portato le materie prime in cucina parliamo di un'azienda che opera su tutta la filiera dalla semina al raccolto fino alla tavola questo consente di ottenere i migliori risultati non solo dal punto di vista organolettico cioè migliore qualità dovuta alla trasformazione immediata del prodotto ma anche dal punto di vista batteriologico e sanitario un processo produttivo e il vostro basato principalmente su che cosa? su materie prime italiane filiera vegetale esclusiva italiana 100% con agricoltori appunto che lavorano nei propri terreni in Italia e offrono a noi vegetale di altissima qualità che vengono raccolti e poi prodotti quindi surgelati in tempi molto brevi la nostra unicità è oltre a questa offerta di vegetali italiani 100% di alta qualità è la presenza di pizze, di prodotti italiani, pizze surgelate e di piatti pronti quindi un'offerta esclusiva che comprende un'ampia gamma di prodotti lei ha citato molte volte il termine surgelato un aggettivo che spesso il consumatore associa a un prodotto qualitativamente parlando inferiore rispetto al fresco ma è veramente così? surgelato è una risposta io direi ai tempi moderni oggi il mondo moderno che vuole un servizio rapido vuole un'alta qualità trova nella surgelazione quindi in prodotti surgelati una risposta perfetta prodotti di alta qualità che non richiedono delle capacità di preparazione complesse quindi rapidità di preparazione e semplicità di preparazione più che mai la filiera vegetale quindi i piselli, gli spinaci surgelati rappresentano un'eccellenza non solo perché italiani ma perché appunto essendo surgelati catturano all'interno tutte le proprietà nutrizionali come le vitamine fattori nutrizionali che non vengono persi cosa che invece viene purtroppo ad accadere in vegetali freschi che permangono a lungo per esempio in frigorifero l'estremo oriente e in particolar modo la Cina si sta avvicinando con molto interesse al food made in Italy e la tecnica di surgelazione consente di esportare questo cibo mantenendo le caratteristiche invariate del prodotto? L'industria rolli nella produzione del surgelato è in assoluto leader in Italia quindi un'offerta unica e questa ampia offerta rappresenta appunto una unicità il mercato europeo molto importante per noi così come il più recente mercato americano rappresentano aree a noi conosciute ma è proprio il mercato orientale e quindi la Cina la fa sicuramente da padrone rappresenta per noi leader del surgelato italiano un'occasione unica di far assaggiare, di far arrivare la qualità autentica italiana nel piatto del consumatore cinese quindi con Confimpresa stiamo guardando questa opportunità proprio per trovare la modalità giusta di far capire un'eccellenza italiana che sono questi prodotti nostri surgelati nella maniera giusta la cucina cinese ovviamente non è una cucina che utilizza forni occidentali microonde o forni tradizionali è una cucina che si basa sul riso una cucina più semplice che richiede quindi anche una preparazione semplice quindi spiegare questa qualità che viene riconosciuta anche dai consumatori cinesi che vengono in Italia o che siano questi prodotti ma invece portarla in Cina e fare capire loro come si prepara e come si consumano Per valorizzare appieno il prodotto che arriva dai nostri campi è dunque importante saperlo cucinare nel migliore dei modi e qui entra in scena la cucina italiana e il cuoco italiano, esatto? L'importanza è far capire a chi va a operare con il cibo surgelato che sono cibi precotti di facile utilizzo, utilizzo immediato e molto veloce e poi sono stati combinati in precedenza per avere questo gusto della nostra italianità Italianità che tra l'altro tu insegni ai consumatori in questo momento qui agli studenti ma anche agli chef di questi paesi asiatici e un po' di tutto il mondo Certo sì perché alcuni cuochi sono legati alle tradizioni di cuocere molto piuttosto che di fare il prodotto da zero e non sanno assemblare due prodotti non so un sugo e una pasta diciamo viene insegnato questo la facilità del cucinare e non il riprendere il piatto da zero E vuoi raccontarci la tua esperienza all'interno delle cucine dell'Istituto Alberghiero Colombatto? Come ti sei trovato a Torino? Mi sono trovato molto bene, sono degli chef e maestri in cucina bravissimi i ragazzi sono stati super collaborativi è un bel ambiente per fare queste degustazioni Ma vogliamo sapere da te il cibo surgelato può sostituire il cibo fresco? Il cibo surgelato è cibo fresco Grazie allo chef per le importanti, per le curiose informazioni che ci ha dato e noi andiamo a parlare ora con Giordano Lezzi che è un giovane pugliese che dalla Puglia oggi è arrivato qui in Piemonte Giordano, perché sei giunto fin qui all'Istituto Alberghiero Colombatto a Torino oggi? Perché? Per presentare la nostra start-up, il nostro progetto da proporre nei parchi eccellenza in Cina un progetto di sughi già pronti e proporli nei punti vendita e nel punto di somministrazione che avremo a disposizione lì in Cina nel Parco Eccellenza La tua start-up porta il nome del tuo ristorante la scarpetta. Perché questo singolare nome? Abbiamo scelto questo nome, questo nome al nostro ristorante la scarpetta. Perché si fa la scarpetta? Un gesto di gradimento del piatto che si fa con il pane e con che cosa si fa la scarpetta? proprio con il sugo, il condimento. Ok, da lì è nata l'idea di produrre dei sughi già pronti e chiamarli con il nome del nostro ristorante. Ogni volta che io ho un cliente posso già iniziarlo a intrattenere in questa maniera. Questo qua è Flair perché se notate la bottiglia fa sempre due giri. E con questa spettacolare esibizione del Flair da parte del barman professionista noi lasciamo Torino e l'Istituto Alberghiero che ha ospitato questo momento. Passiamo ad occuparci di agricoltura. Siamo a Racconigi in provincia di Cuneo dove a fianco del meraviglioso castello che fu residenza estiva del Savoia in un contesto importante sia dal lato storico ma anche ambientale ed agricolo si inserisce un'azienda agricola familiare che produce che cosa? Andiamo a vederlo. Allora noi siamo un'azienda floricola di floricoltura è nata 22 anni fa in questo contesto in mezzo alle cascine che erano un tempo dei Savoia abbiamo di fronte il centro Lipu che è un bellissimo centro Cicconi e Anatidi è nata questa realtà quasi per scherzo poi pian pianino è diventata una vera e propria attività con tanta soddisfazione da parte mia e di mio marito e con l'inserimento anche dei figli che hanno fatto tutti e due la scuola di agraria, sono tutti e due periti e l'attività va avanti noi coltiviamo già dall'inizio e mandiamo avanti in produzione e poi vendiamo direttamente nel nostro punto vendita gerani, surfini e piante annuali, piante perenni è iniziata la primavera e con lei nasce la voglia di vivere l'outdoor di conseguenza di abbellire il nostro giardino o semplicemente il balcone di casa andiamo allora a vedere che cosa il consumatore chiede e che cosa il mercato offre in tal senso allora propone un sacco di fiori e piante colorate da sole, da ombra ci sono i gerani zonali che sono quelli retti i gerani parigini quelli ricadenti che fanno stanti fiori che stanno meglio al sole e i gerani edera, sempre ricadenti che preferiscono qualche ora d'ombra le surfini sono stupende, danno poco lavoro bisogna solo annaffiarle e pulirle ogni tanto e amano tanto sole quest'anno è stato un inverno rigido e quindi impegnativo con costi di produzione altini perché la nostra spesa più grande è il riscaldamento e quest'anno tenere 10 gradi nei nostri tunnel è stato impegnativo queste sono le vostre produzioni, vale a dire il verde le piante che voi proponete ai vostri clienti che arriva direttamente dalle vostre coltivazioni ma per tutte quelle varietà che il clima qui in Piemonte non ne consente la coltivazione diretta come agite, come vi comportate che cosa offrite alla vostra clientela e da dove arrivano queste piante? Sì, in questo periodo cominciamo a lavorare bene con le piante aromatiche dal rosmarino, la salvia, il timo coltivarle qui da noi è difficile è troppo freddo quindi le aziende agricole della Liguria ci danno una mano come pure per le margherite, le calle, le azalee altre aziende agricole dal Lago Maggiore perché noi comunque facciamo parte di Campania Umica che sono tutte aziende che lavorano e vendono al minuto e sono tutte aziende che comunque ci sono in tutta Italia quindi possiamo avere un'ampia scelta di tutte le piante che vanno dalla primavera presto fino alla tarda estate Il consumatore che raggiunge la vostra azienda a volte ha bisogno di essere consigliato, guidato, aiutato nell'acquisto e soprattutto seguito, aiutato nel mantenimento della pianta che poi si porterà a casa Quali sono i vostri consigli in merito? Qual è il vostro intervento? Sì, in effetti è giusto anche perché ogni pianta predilige più sole, più ombra, più acqua, meno acqua quindi è la nostra più grossa soddisfazione seguire il cliente e consigliarlo sulla posizione della pianta che va ad invasare sulla concimazione, sull'irrigazione che dovrà fare ci sono anche clienti che magari non hanno tempo lavorando tutti quindi portano i vasi, noi li invasiamo noi li teniamo una settimana, dieci giorni qui così li svezziamo noi, li adattiamo spostandoli dalla sera chiusa all'altra aperta e così quando li portano a casa devono solo più metterli sul balcone e seguirne la crescita Abbiamo quindi capito che il vostro è un appoggio al consumatore che non si limita solo nel momento dell'acquisto ma che si prolunga durante tutta la vita della pianta quindi voi siete a disposizione sempre del vostro cliente Sì, è un nostro piacere perché se hanno dei problemi è giusto che se abitano vicino vengono fino a trovarci tanto noi comunque la domenica ci siamo sempre e ci spiegano il problema magari addirittura ci portano la pianta a vedere quindi diciamo devi concimare una volta a settimana quando luglio fa tanto caldo bisogna smettere con la concimazione e riprendere poi ad agosto abbiamo la fortuna di abitare qui e siamo disponibili praticamente sempre Abbiamo visto che voi siete un'azienda agricola che cerca di produrre e commercializzare la maggior parte delle piante che vengono coltivate direttamente nella vostra azienda questo per seguire proprio una vostra filosofia che rispetta la crescita della pianta con un certo tipo di lavorazione con un certo tipo di coltivazione Vuoi spiegarci? Sì, noi cerchiamo di non spingere troppo la pianta la concimazione è giusta però senza velocizzare troppo i tempi in base alla stagione, non so, aprile, maggio è la stagione di tutte le piante da balcone, giardino, i vuole quindi cerchiamo di farle stare in aprile, maggio eventualmente giugno ma non forzare troppo perché poi la fioritura deve essere in quel periodo io do l'ideale per poi essere portata avanti con calma, senza forzatura non facciamo dei fuori di stagione Quando parliamo di forzature non ci riferiamo solo alle concimazioni ma anche alle temperature delle serre che vengono riscaldate durante l'inverno Sì, scaldiamo il minimo necessario per non avere ingiallimenti, muffe Stefano, tu sei un perito agrario che conosce bene la vita delle piante e quindi sai consigliare in base alle esigenze del cliente ma soprattutto in base a quelle che sono le esigenze delle piante e il contesto in cui vengono inserite Ma ci comportiamo in modo da consigliare il meglio possibile che se il cliente ci chiede piante da ombra consigliamo magari una bacopa o un'altra pianta che possa andare bene all'ombra mentre magari consigliamo una surfigna perché il balcone è tutto il giorno soleggiato o comunque almeno il pomeriggio se c'è il sole c'è il sole se c'è l'ombra c'è l'ombra E per quanto riguarda l'irrigazione e la concimazione come ci si deve comportare una volta che si è portata la pianta a casa? Le bagnature sono fondamentali perché comunque non bisogna irrigare nel primo pomeriggio ma comunque come si sa ma è sempre meglio dirlo o il primo mattino o verso la sera anche magari se non si ha voglia però dopo cena si cerca anche d'estate di non concimare troppo perché comunque concime una sostanza forte c'è il rischio che bruci un po' la pianta quindi o subito dopo il trapianto o comunque dopo un mesetto per far rinvigorire meglio la pianta e quindi abbiamo piacere che il cliente venga qui e ci chieda ma cosa dobbiamo fare per tenerla più a lungo e noi quello che riusciamo cerchiamo sempre di consigliare Abbiamo parlato di gerani, di sulfini e di quei fiori stagionali che abitualmente vediamo sui nostri balconi nei nostri giardini ora parliamo però di piante annuali e perenni quali sono le differenze tra queste due coltivazioni? Allora, la differenza tra le due coltivazioni annuali e perenni praticamente lo dice già un po' il nome diciamo, praticamente le annuali sono tutte quelle piante che vengono messe a dimora durante il periodo estivo e quindi molto, un periodo molto caldo quindi fanno la loro fioritura durante l'estate e durano un'intera stagione cioè praticamente noi abbiamo una pianta messa a dimora ad aprile, maggio che durerà fino alle prime gelate di fine ottobre, novembre ecco, dà il massimo in questo periodo invece se noi andiamo sul discorso delle perenni è un discorso un po' più variegato, un po' più ampio perché ci sono molti tipi di perenni e queste perenni vengono un po' a riempire questo spazio che abbiamo da febbraio a giugno dove noi non abbiamo tantissima fioritura perché il clima è ancora piuttosto avverso quindi pensiamo a un febbraio, marzo, i primi di aprile praticamente noi con queste perenni andiamo a riempire i periodi dove abbiamo un clima piuttosto freddo un clima un po' più difficile ecco, le perenni sono nate proprio per avere dei colori nel periodo di febbraio, marzo e i primi 15 giorni di aprile quindi consideriamo che queste perenni ci sono molte varietà comunque il discorso delle perenni funziona anche molto bene perché è una piantina che messa a dimora una volta durerà per sempre poi appunto ci sono delle perenni che tendono ad allargarsi perenni che tendono ad alzarsi a fare più cespuglio però hanno questa caratteristica è vero che durante l'autunno loro certe perenni tendono a sparire non spaventiamoci che comunque questa perenne quando il terreno comincia a riscaldarsi lei pian pianino fa di nuovo capolino e riparte le piante perenne e quelle annuali possono essere piantate anche in vaso oltre che nel giardino? dunque, diciamo che le annuali nascono in gran parte per essere piantate sia in giardino sia in vaso sul discorso delle perenni dobbiamo sempre pensare che la perenne nel periodo molto molto caldo tende a rallentare la fioritura quindi noi se abbiamo un giardino con delle piante che si alternano non è un problema se invece noi abbiamo qualche vaso e in questo vaso per un certo periodo nell'estate hai solo del verde è un po' un problema si preferisce comunque avere del colore ed è più facile averlo sulle annuali noi consigliamo sempre di alternare dove ci sono vasi sicuramente annuali e dove ci sono degli spazi da riempire in giardino delle perenni per avere diversi momenti di fioritura una famiglia la vostra Mario Antonella che come abbiamo detto e abbiamo visto svolge un servizio con la sua attività in un contesto storico e naturalistico molto importante vogliamo quindi ricordare dove vi trovate? siamo nelle vicinanze del castello reale di Raconigi che fu residenza estiva dei Savoia vicino al centro Lipu a noi piace consigliare ai nostri clienti il posto adatto dove mettere le loro piante e una cosa essenziale seguire i nostri clienti durante la stagione quindi siamo ben lieti di dare consulenza sia telefonica sia che loro ci vengano a trovare per avere risultati ottimi per tutta la stagione con le nostre piante un grazie a questa bella e intraprendente famiglia lasciamo la floricoltura e torniamo alla tavola con un momento dedicato a un'altra azienda agricola a un agriturismo e al suo agri chef che oggi per le nostre telecamere ci preparerà un'altra tipica ricetta della cucina piemontese prodotti dell'orto biologico porri, patate, prodotti di stagione e cipolla ho utilizzato una cipolla dorata questa è abbastanza grande la dovrò dividere a metà poi la faccio in tocchetti abbastanza fini diciamo per quattro persone dovrebbero essere una piccola cipolla quattro patate medie queste sono un po' piccole quindi ne metteremo un po' di più metto un filo d'olio e quattro porri le patate le tagliamo a tocchetti piccole le patate sono di nostra produzione noi abbiamo un orto biologico e diciamo che utilizziamo i prodotti della stagionalità questo piatto è un piatto molto semplice molto gustoso e digeribile ecco la scelta è di non fare il soffritto poi ovviamente dipende molto dai gusti personali si può fare tranquillamente aggiungiamo l'acqua perché abbiamo deciso di non fare il soffritto e quindi aspettiamo che il tutto vada a bollore 20-25 minuti anche 30 dipende un attimino dalla tipologia delle patate dopo aver pulito i porri si tagliano a rondelle adesso per comodità tolgo anche la parte verde finale io di solito la tengo perché mi piace molto siccome non si spreca niente la parte finale poi viene utilizzata comunque per altre zuppe o minestre il porro è veramente versatile ed ha un buon gusto insaporisce molte pietanze intanto le patate e le cipolle stanno cuocendo una mezz'oretta come dicevo in dipendenza della tipologia di patate utilizzata e della loro durezza dopodiché si dovranno frullare e si ottiene questa crema non vengono frullate finemente si devono vedere i pezzettini di patata a questa crema si aggiungono le rondelle di porro che abbiamo tagliato si amalgama il tutto e si farà cuocere ancora per 15-20 minuti massimo adesso diciamo che siamo praticamente alla fase finale ed è proprio nella fase finale che noi aggiungiamo lo zafferano questo zafferano di nostra produzione biologico è in pistilli prendiamo alcuni pistilli non tantissimi e aggiungiamo alla fine di modo che prenda colore nell'ultima fase di cottura e prenda anche tutti i benefici che lo zafferano dà che non è solo il colore dato dal safranale ma anche il contenuto di carotenoidi quindi è una una spezia molto importante molto importante anche per la nostra salute perché ci mantiene giovani quindi i re questo lo sapevano bene la utilizzavano molto infatti viene chiamata oro rosso anche non solo per il prezzo quindi in quest'ultima fase perché è importante inserire lo zafferano nell'ultima fase di cottura perché in cotture prolungate e ad alta temperatura lo zafferano perde tutte le sue proprietà e noi non vogliamo assolutamente spendere soldi per poi perdere le proprietà così facilmente per cui lo mettiamo a fine cottura la zuppa adesso è pronta e adesso impiattiamo normalmente io utilizzo una cocotte di questo tipo che mi mantiene anche la mia zuppa calda adesso aggiungiamo anche lo zafferano così che dà anche colore alla ricetta e poi finiamo con alcune rondelle di porro a crudo un pistillo di zafferano ecco ora a questo punto la cocotte viene chiusa e il piatto è composto e servito con questa zuppa di porri e zafferano io vedo molto bene il grignolino lo vedo bene perché la nostra zona è la zona del Monferrato e questo grignolino viene appunto dal Monferrato da un'altra azienda agricola ci potete trovare a Spigno Monferrato l'agriturismo Villa Cheti e